Volevo proporre attraverso queste fotografie che appunto sono state scattate durante il viaggio è una riflessione sul ruolo che i monumenti e i memoriali hanno nell'elaborazione della storia e anche nel racconto della storia e possiamo partire innanzitutto con una riflessione sulla memoria una memoria che non è qualcosa di statico e definitivo ma piuttosto qualcosa di dinamico direi piuttosto un processo e la cosa interessante dei monumenti e dei memoriali è che spesso sono fatti invece di pietra cioè di un materiale duro, poco duttile ma vedremo in realtà come questa dialettica fra la staticità della pietra la staticità dei materiali utilizzati per fare memoria deve in un certo senso avvicinarsi a quello che la memoria è ovvero un processo. Ma interruggiamoci innanzitutto su che cosa sono e a cosa servono i monumenti e i memoriali innanzitutto servono per creare e rinforzare un'identità sociale o almeno sono stati utilizzati in questo modo servono per ricordare alla popolazione l'importanza della difesa della nazione se pensiamo per esempio ai monumenti della prima guerra mondiale questa frase è massimamente vera ovvero il fatto di ricordare il martirio e di ricordare in che modo il sacrificio dei soldati ci sia stato per la difesa della patria. Inoltre servono anche per favorire i processi di elaborazione del tutto cioè quei processi che fanno sì che il dolore di una comunità afflitta si possa raccogliere in un luogo preciso e possano prendere avvio quei processi di elaborazione di questo dolore. Possiamo inoltre dire che ci sono due funzioni principali dei monumenti e dei memoriali una funzione politica ovvero ricordano il passato in relazione ai miti, in relazione agli ideali e ai bisogni politici di un determinato momento storico e concretizzano di conseguenza un'interpretazione storica nel momento appunto in cui vengono costruiti. Questo cosa significa? Già questa frase ci dovrebbe porre un po' in modo critico nei confronti dei monumenti e dei memoriali, questi non sono infatti neutri ma rappresentano un'interpretazione della storia e poi hanno anche una funzione sociale ovvero hanno la capacità di generare riflessione, come abbiamo detto sono importanti per l'elaborazione del lutto e a volte inoltre completano il lavoro di memoria oppure lo restituiscono all'osservatore. Questo cosa significa? Che ci sono dei monumenti che ci raccontano, tentano di raccontare una storia per intero e sono leggibili a colpo d'occhio, non c'è bisogno di grandi interpretazioni. Questo fa sì che il monumento riassuma e concluda il lavoro di memoria e spesso fa sì che passi piuttosto inosservato mentre ci sono altri monumenti che per il linguaggio più astratto o più concettuale che propongono all'osservatore fanno sì che l'osservatore si ponga delle domande si chieda e recuperi da sé la memoria o almeno si è implicato, venga implicato in questo lavoro di memoria. Inoltre i monumenti e i memoriali non finiscono, non si concludono, non concludono la loro vita nel momento in cui vengono costruiti, ma hanno un vero rapporto con il pubblico e inoltre con il passaggio delle epoche storiche mutano e vengono arricchiti di significati. Per quanto riguarda il nostro caso, com'era narrare la guerra, la seconda guerra mondiale nella Jugoslavia di Tito? Innanzitutto il progetto politico e diciamo il motto politico di Tito poteva essere riassunto nella formula fratellanza e unità, brazbo e genisbo e si tentava quindi di creare una identità comune e condivisa, quella di Jugoslavo. Questo significava che per narrare la seconda guerra mondiale si assumeva un punto di vista e questa narrativa assumeva un carattere fisso, era una memoria selettiva e di parte ovvero al centro vi era la figura del partigiano combattente, le vittime sì erano coinvolte ma avevano un ruolo secondario. Ora per narrare questa guerra, l'epopea partigiana il linguaggio utilizzato era un linguaggio astratto, proprio perché la narrativa doveva essere neutrale dal punto di vista etnico, si intendeva infatti creare questa identità comune e condivisa che era quella di Jugoslavo, di popolo jugoslavo. Mentre questo è il modo di la politica della memoria negli anni 90 e dopo gli anni 90 cambia totalmente. Innanzitutto c'è un difficile recupero del passato recente che da un certo punto di vista riflette il difficile confronto con il passato invece della seconda guerra mondiale, un confronto che da certi punti di vista non era avvenuto nella Jugoslavia socialista. Questo ha generato e molti altri fattori hanno fatto sì che le guerre degli anni 90 producessero dei monumenti divisi, degli spazi del rutto separati, conflittuali o addirittura spazi che si negano a vicenda il diritto di esistere. Il primo di questi luoghi di cui vi vorrei parlare è Iasenovats, dove già prima ne abbiamo parlato, ma io mi vorrei concentrare sulla memoria di questo luogo. Innanzitutto, come abbiamo detto, il luogo è stato edificato fra il campo di concentramento, è stato edificato tra l'agosto del 41 e il febbraio del 42 e vi trovarono la morte, come abbiamo già detto, serbi, zingari, musulmani, ebrei e oppositori politici croati. Il campo venne poi chiuso nell'aprile del 45 e la stima delle vittime è ancora e tuttora oggetto di forti dibattiti. Innanzitutto c'è anche da dire che se alcuni luoghi rientrano da subito nell'epopea partigiana, nella grande narrativa della Seconda Guerra Mondiale di Tito, altri invece faticano a rientrarvi. Uno di questi è proprio Iasenovats, perché le prime cerimonie commemorative vengono organizzate dai familiari delle vittime piuttosto che dalle istituzioni e soltanto dopo diverse richieste da parte anche di alcune associazioni si ha la memorializzazione del luogo. Ma era difficile infatti elaborare una memoria ufficiale. Come si poteva coniugare la retorica di fratellanza e unità in un luogo dove le responsabilità da parte croata erano così lampanti. Eppure si riesce a farlo, nel 68 sotto impulso della Federazione dei Veterani di Guerra si riesce a intavorare una discussione e a costruire questo memoriale e il centro di ricerca costruito successivamente lavora per dare un'identità alle vittime di Iasenovats. Per adesso la città si aggira sulle 80.000 persone, ma molti hanno criticato questa modalità di ricerca perché viene meno una stima generale dei molti nel campo di concentramento. Quello che negli anni appunto della memorializzazione del luogo venne chiamato Bogdan Bogdanovic, un architetto di Belgrado, a memorializzare il luogo, a costruire questo memoriale. Era un luogo effettivamente difficile da rappresentare attraverso l'arte e Bogdan Bogdanovic decide di costruirgli un fiore. Un fiore che era al di là delle rappresentazioni religiose che vedevano implicate le diverse nazionalità, che appunto avevano anche le diverse etni che avevano trovato la morte nel luogo. Il fiore rappresentava, era un simbolo di pace, ma era anche il simbolo della commemorazione, il simbolo dell'omaggio ai defunti. Un simbolo pacifico che nasceva in un territorio di morte, in un territorio di guerra. E scrive proprio Bogdanovic a proposito del suo fiore. Il mio loto malinconico fatto di cemento armato non solo previene pensieri maligni da tutti i tuoi lati, ma possiede anche un certo effetto catartico. Non ha offeso nessuno, non ha minacciato nessuno, non ha cercato vendetta e non ha ancora nascosto la verità. Sono parole piuttosto importanti. Qui non si trattava di rivendicare, non si trattava di benedicare, ma di abbracciarsi anche in un dolore comune. E è quello che il fiore, il fiore degli Asenovats, vorrebbe rappresentare. Dice ancora Bogdanovic, il fiore era portatore di pace e tutto il resto era una scena di guerra. Questa è il fiore come lo vediamo oggi, questa è una parte interna invece, non so se si riesce a vedere. Queste sono invece delle piccole pollinette che l'architetto decise di costruire nei luoghi dove erano avvenute le uccisioni. Nel fiore di Asenovats indicavo la vita. I crimini agli Asenovats furono terribili, ma era importante mostrare ciò che veniva dopo. E ciò che veniva dopo era la vita, in un certo senso. L'altra faccia della medaglia di Asenovats è invece Donia Gradina. A Donia Gradina avveniva la maggior parte delle uccisioni e il luogo è diviso dal campo di Asenovats dal fiume Sava. Secondo il memoriale di Donia Gradina, la cui amministrazione agisce separatamente da Asenovats, la stima generale dei morti nel campo di concentramento è di 700.000 vittime, stimate appunto nel complesso generale. In questo caso queste cifre sono state spesso strumentalizzate dalle parti politiche, fino ad arrivare anche a oggi dove non c'è un accordo sulla cifra precisa o su una stima complessiva delle vittime del luogo. Questa qui è il campo comunque come ci appare oggi, la parte di Donia Gradina, che segue delle linee artistiche diverse e memoriali diverse rispetto a Asenovats. Donia Gradina è un luogo di meditazione, c'è un lungo percorso su questa strada rossastra, fino a che non si arriva a uno spazio dove vengono mostrati questi cartelli, c'è una simbologia utilizzata e la stima che è stata effettuata durante gli anni 60 e che non è stata appunto rivista. Il luogo suggerisce però un ripiegamento su se stessi nel momento in cui viene effettuato questo cammino, che è un cammino di silenzio e di meditazione all'interno della foresta, che per certi versi è rappresentato, può essere legato a Asenovats nel momento in cui anche lì c'è una certa, la commemorazione, il raccoglimento in se stessi, mentre si arriva al fiore che si trova nel centro del campo. Questi campi, questa storia, è direttamente collegata ad un'altra vicenda della storia dei territori dell'Evris Jugoslavia, ovvero la battaglia del Monte Cozzera. Sul Monte Cozzera che fu una battaglia importante nel 1942 tra nazisti e ustascia da un lato e partigiani a difesa della popolazione civile che si era raccolta appunto sul monte. L'avvenimento divenne un avvenimento chiave nella narrazione storica jugoslava, proprio perché rappresentava un momento del coraggio di questi partigiani che avevano tentato di difendere appunto la popolazione civile. Il bosco che si trova appunto sul Monte Cozzera è stato dichiarato bosco storico nel 52, nel 72 viene proclamato parco nazionale e vi viene costruito un memoriale e un museo che raccoglievano l'eroico racconto della guerra partigiana. Questo è appunto il momento che è tuttora appunto visibile. Ma dal 99 ci fu una rilettura in chiave nazionalistica degli eventi, infatti la mostra dedicata alla seconda guerra mondiale venne sostituita da una mostra perquisoria dal titolo Il genocidio dei serbi nel ventesimo secolo, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale come potete vedere dalle date e poi un 1991 con un trattino e un punto interrogativo, come a voler dire che il genocidio del popolo serbo sarebbe avvenuto ancora, oppure era già avvenuto. Dopo diverse commissioni, all'incirca verso il 2010, questa mostra è stata poi smantellata e se andate oggi al museo del Cozzera ritroverete la mostra precedente, quella dedicata alla battaglia del 42. Questa è appunto la torre come ci appare oggi. Zamonia, che era appunto l'architetto responsabile della sua costruzione, parla e dice che la torre rappresenta appunto i partigiani in Londra, di fronte abbiamo questi piloni che sono invece i nemici, gli ustasciari nazisti e dietro già all'interno della foresta vi è la popolazione civile che tenta appunto di essere difesa dai partigiani. All'interno della torre vi si accede con difficoltà, infatti come potete vedere queste piccole, la torre è costruita da piccole colonne che si convergono nel centro. Nel centro c'è buio ma guardando in alto vediamo la luce, in un certo senso è la vittoria comunque dell'antifascismo, sul nazismo, sul fascismo che si raggiunge con molta difficoltà ma arrivati all'interno basta alzare gli occhi e vediamo la luce, la vittoria. Questa invece è la struttura del museo e nella parte retrostante dove ci si trovano invece questi piloni che rappresentavano invece la popolazione civile si trova una lista delle vittime dove non c'è nessuna soddivisione etnica o nazionale. Adesso passiamo invece al conflitto degli anni 90 e vediamo invece in che modo a piedi si sono confrontati con il passato recente. Innanzitutto il luogo come già avevamo detto è stato un luogo che è una pulizia etnica e anche la disgregazione del tessuto comunitario e sociale del luogo. Nel 92 vengono poi costruiti alcuni campi di concentramento tra cui Omarska, Tornopoli e Pera Terme e Maniazza e vengono chiusi soltanto appunto alla fine dell'agosto del 92 dopo la denuncia di alcuni giornalisti tra cui El Guglielmi e anche Roy Woodman. L'operazione venne a massacro di Piedoro ha provocato 5200 vittime soltanto sul suo territorio. La memoria, la memoria è una memoria molto difficile da recuperare e anche da esprimere a livello architettonico e rappresentativo. Associazioni come Logorasa 92 fanno un grosso sforzo per far sì che la popolazione si confronti su ciò che è successo negli anni 90. Il risultato però ancora oggi è che ci sono dei monumenti divisi, ci sono degli spazi del lutto divisi. Un esempio è per esempio il monumento dedicato alle vittime della guerra 92-95 che vorrebbe essere un monumento a vocazione generale possiamo dire, soltanto l'8 maggio del 2011 e a cui l'associazione tra l'altro Logorasa 92 ha dato un grosso impulso. Il monumento ricorda le vittime del villaggio di Corpara e della guerra e all'interno di questo monumento vi sono i nomi di tutte le vittime e si trova lontano però dal centro di Piedoro. Nel centro di Piedoro invece sorge questo monumento che è una croce ortodossa dedicata invece alle vittime serbe del conflitto. Tornopoli e come alcuni di voi hanno ricordato giace invece in stato di abbandono l'edificio scolastico che era diviso appunto a campo di concentramento durante la guerra degli anni 90. Oggi ha questo aspetto lasciato praticamente in disuso ma sulla strada e sul ciglio della strada si trova questo monumento che alcuni dicono sia un'ambila, alcuni dicono sia un angelo, ma è dedicato alle vittime serbe, ai soldati serbi del conflitto e è stato eretto nel 2010. Omaska invece ha tutt'altra storia, una storia di privatizzazione di un luogo da parte di una multinazionale anglo-indiana che rilascia pochi permessi anche alle stesse familiari delle vittime per procedere con una commemorazione e per le commemorazioni annuali e non c'è stata ancora una memorializzazione. A Caraterno invece abbiamo una lapide commemorativa e questa invece ha una fossa comune vicina nel territorio comunque di Piedor dove è stata apposta questa lapide. Un altro luogo di raccolta e un altro luogo della memoria è diventato invece il cimiterio un po' sul mano di Kozaraz che anche questo è stato costruito comunque su fondi privati, non attraverso un'istituzione. e questo invece è, possiamo dire, religiosamente connotato, come possiamo vedere per esempio dalla cappella principale e quindi la situazione di Piedor è totalmente divisa, spazi divisi per memorie che difficilmente si incontrano o dialogano fra di loro. Sarajevo, questa è stata una delle tappe del nostro viaggio, ha ricordato attraverso politiche della memoria l'assedio, il lungo assedio che appunto è avvenuto durante la guerra. Il 5 aprile del 2012 infatti venne fatta la cosiddetta linea rossa di Sarajevo, ovvero nella strada dedicata al maresciallo trattito, 11.541 assedio e vuote sono state messe tutte in fila per rappresentare le vittime dell'assedio, una rappresentazione di forte impatto, possiamo dire. E nel territorio appunto proprio nella città di Sarajevo si trovano molti luoghi del ricordo, tra cui il mercato di Marcale dove ci furono le due stragi, il 5 febbraio del 94 e il 28 agosto del 95, dove morirono quasi 100 persone. Questo è il mercato Marcale di notte e qui possiamo vederlo invece di giorno, mentre le persone si sono appunto riappropriate di questo luogo un po' simbolo di Sarajevo, dove in fondo vediamo il monumento, un memoriale che è costituito da questo muro dove si trovano le vittime, i nomi delle vittime appunto delle stragi. Qua vediamo proprio come i monumenti siano all'interno anche della quotidianità di una città, qui per esempio c'è un monumento dedicato alle vittime della fila per il pane davanti al negozio. Poi c'è invece questa fontana di uno scultore, si chiama il monumento ai bambini incisi durante l'assedio di Sarajevo e è una fontana molto evocativa, le due figure fatte con il vetro rappresenterebbero la madre e il bambino e sopra sulla piattaforma della fontana sono impresse delle orme di bambino. Ma c'è un altro volto di Sarajevo su cui gli architetti hanno deciso invece di non intervenire o di intervenire soltanto per far vedere il vuoto che la guerra ha lasciato e questi sono appunto gli edifici martoriati ancora dalle pallottole oppure le granate che sono esplose nella pavimentazione appunto nella città. Alcune di queste cicatrici possiamo dire sono state ricoperte di una cera rossa, questa era un'iniziativa che le voleva far diventare le rose di Sarajevo, cioè dei punti in cui chiunque passasse si poteva ricordare di ciò che era avvenuto e il colore rosso sicuramente ricordava sia faceva sì che la gente riponesse attenzione sia ricordava la strage, ricordava il dolore, qui per esempio la vediamo in un edificio. Un altro punto importante che Sarajevo dedica diciamo alla memoria della guerra è la galleria 11.795 dedicata a Srebrenica. Infatti all'interno della galleria si trova una mostra fotografica come possiamo vedere dove vengono ricordate le vittime appunto di Srebrenica e una mostra fotografica invece dedicata a come oggi Srebrenica, al difficile lavoro di recupero delle identità delle vittime attraverso appunto lo studio del DNA e facendo vedere delle immagini molto evocative possiamo dire su quello che è oggi Srebrenica. Vorrei quindi chiudere questa riflessione sui luoghi che secondo me ci può far molto ragionare anche sull'importanza della memoria con una frase, con questa immagine che appunto su cui vorrei che voi rifletteste oggi. Vi vorrei farti chiedere che cosa succede e mi vorrei chiedere anch'io che cosa succede se ci dimentichiamo di ricordare e che cosa succede se quindi ci dimentichiamo di erigere memoriali, se ci dimentichiamo di confrontarci con il passato. Ho paura che, venendo meno la nostra iniziativa, i paesaggi diventino muti, un po' come questo paesaggio che se nessuno ci facesse caso, se nessuno vedesse la lapide che vi è posta o semplicemente vi passasse davanti sembrerebbe soltanto una prateria con in fondo un bosco. Grazie. Grazie.